da tre anni siamo immersi in terribili eventi che potrebbero insegnare molto agli uomini occorre però seguirli non dormendo ma da svegli ci si meraviglia tuttavia in senso negativo per i molti che di fronte agli eventi terribili del presente continuano a dormire e non sono ancora arrivati a pensare che tali eventi mai prima esistiti nell'evoluzione umana del mondo richiedono che si arrivi a nuovi concetti anch'essi mai prima esistiti da la caduta degli spiriti delle tenebre di Rudolf Steiner, editrice antroposofica